Dottora Bona, cosa dobbiamo aspettarci dal mercato del debito nel 2018? Sicuramente dobbiamo ricordarci che il 2017 è stato sicuramente un anno record che ha visto le solo corporate italiane aumentare i loro livelli di emissione di più del 90% rispetto all'anno precedente. Questo sicuramente è stata una coniugazione di eventi favorevoli, soprattutto da un lato la politica chiaramente ancora accomodante della banca centrale che ha mantenuto i tassi molto bassi e ha sicuramente aumentato la propensione al rischio degli investitori diminuendo gli spread e comunque portando le corporate italiane a cercare di finanziarsi a livelli mai visti prima, quindi ultra competitivi. Dall'altro lato chiaramente anche il quadro politico di riferimento in Italia si è dimostrato molto meno volatile rispetto ai precedenti anni, quindi sicuramente se questa coniugazione di eventi continuerà anche nel 2018, a mio modo di vedere si vedranno volumi molto sostenuti. Ci sono sicuramente alcuni temi che arriveranno all'ordine del giorno con il nuovo anno, primo fra tutti mi viene in mente la nuova legge sui senior non preferred che permetterà appunto alle banche italiane di emettere questa tipologia di strumenti per riuscire a ottenere le loro limiti regolamentari in termini di MRL. Sicuramente oltre a questo ci saranno ancora molti green bond, abbiamo visto molti emittenti quest'anno, in particolare quattro, proporre la loro prima emissione, erano Enel, Intesa, Cassa Deposite Press di questa settimana e IREN qualche mese fa. Sicuramente se ne vedranno ancora molti di progetti green e relativi financing green slash social. L'altra tematica sicuramente è capex, nel senso che l'economia italiana sta ripartendo, ci saranno sicuramente maggiori propensioni ad aumentare capex a livello di azienda e quindi chiaramente a finanziarlo con potenzialmente anche operazioni di bond. In tutto questo ricorderei anche che il TLTRO sarà sicuramente al centro delle riflessioni di molte banche italiane a livello proprio di exit strategy graduale. Sicuramente a partire dal 2018 temo e penso che questo sarà un fattore rilevante che sicuramente porterà molte banche a cercare di rifinanziare gradualmente questa liquidità sul mercato pubblico istituzionale. Molte grazie.